... Matera 2019, il giorno dopo la visita della Lez in Monta, la polemica politica, il ministro si scaglia contro il comune per i ritardi, il sindaco si difende ma a rincarare la dose ci pensano gli operatori turistici. Sono 17 le famiglie fatte evacuare dopo il crollo del muro in un cantiere di via Maratea a Potenza in 43, sistemati in albergo, il sindaco De Luca impone il risarcimento al titolare del cantiere. Autovelox e dispositivi mobili di velocità contro la pericolosità della Potenza, Melfi, prime misure di prevenzione degli incidenti disposte da Anas e Polizia. In primo piano nello sport il calcio con i punti interrogativi nel campionato di serie C per il Matera e in settimana è già derby. Serata esilarante a Campomaggiore con la comicità di Rosalia Porcaro di scena in donne. Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben ritrovati in studio con l'informazione regionale della nuova TG. Apriamo quest'edizione del nostro telegiornale, ancora con Matera 2019, continua lo scontro politico dopo il sopralluogo effettuato ieri dal ministro Barbara Lezzi. Nel dibattito intervengono anche gli operatori turistici a sottolineare le problematiche e i ritardi a pochi mesi dall'evento europeo. Alessandro Panuccio E scontro politico sui ritardi di Matera 2019. La scintilla è il cantiere di piazza della visitazione. Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, non le ha mandate a dire nel sopralluogo di ieri, annunciando la messa in mora del comune. Immediata la replica del sindaco. Solo il 14 maggio scorso il comune è diventato proprietario di quell'area, dopo 20 anni di attesa. Ma noi abbiamo avuto le risorse con la legge di bilancio 2017, solo nell'ultimo incontro del 16 luglio a Roma. I miracoli li fanno gli angeli, non i sindaci. Ma i nodi da sciogliere sono tanti e a farli emergere anche gli operatori turistici che hanno incontrato il ministro insieme alla deputata Lezzi. Tra le problematiche sollevate, l'assenza di strategie per la gestione dei flussi turistici e di un cronoprogramma per il 2019, l'uso improprio della tassa di soggiorno e l'evasione della stessa, la mancata predisposizione di un ticket d'ingresso alla città, la carenza di servizi, quali parcheggi e terminal bus, le contraddizioni delle ZTL e l'abusivismo dilagante in ogni settore, oltre alle problematiche diffuse del comparto alberghiero ed extraalberghiero. La Lezzi ha preso atto di quanto illustrato le e assicurato, per quanto di competenza del governo, una condivisione di tali problematiche con i suoi colleghi di altri dicasteri, per avviare la strada di un dialogo e un confronto profiqui, e soprattutto allargati tra esecutivo nazionale, enti e tessuto socio-economico locale. E oggi nella sala consigliare del comune di Policoro sono stati sottoscritti gli accordi di programma per l'attuazione delle operazioni in materia di fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e di promozione delle destinazioni turistiche. Gli accordi chiudono la procedura negoziata per la selezione degli interventi a valere sul POFESR Basilicata 2014-2020 tra regione e comuni del Metapontino, tra cui Bernalda, Novasiri, Pisticci, Policoro, Rotondella, Scansano Ionico e anche il comune di Matera, di Maratea. Gli accordi hanno la finalità di contribuire ad elevarne le performance competitive sui mercati nazionali ed esteri delle destinazioni turistiche di pregio del Metapontino e anche della costa tirrenica. E restiamo in qualche modo in tema, ci torniamo ad occuparci dei progetti Basilicata attrattiva 2019, i 47 comuni bocciati non ci stanno e insorgono contro la regione denunciando sviste e dubbi e interpretazioni delle norme. Sentiamo Michelangelo Russo. Gli asini non sono i comuni, è la regione che è diventato un mulo, non accetta consigli, non digerisce le precisazioni, non ammette di aver chiesto l'impossibile, anche ciò che è assurdo pretendere. È scattata la solidarietà tra gli esclusi dell'avviso pubblico per la presentazione e selezione dei progetti di fruizione del patrimonio culturale regionale Basilicata attrattiva 2019. Ora se ne occuperà Lanci, che ha già chiesto un incontro alla Commissione che ha esaminato le istanze. I sindaci che hanno reagito con vehemenza e fermezza, da quello di Melfi a quello di Satriano, da quello di Picerno a quello di Guardia Aperticara, pretendono un ripensamento da parte della regione. Gli esaminatori delle istanze non hanno considerato una serie di norme attualmente in vigore e si sono trincerati dietro a una visione alquanto miope. Eppure le disponibilità finanziarie per erogare ulteriori contributi, per rendere veramente attrattiva la Basilicata, ci sono e rischiano di tornare a Bruxelles se non vengono impegnate spese. La lista dei ricorsi è lunga. Il sindaco di Picerno, Giovanni Lettieri, precisa che è stato già inoltrato ricorso alla regione Basilicata poiché non sussistono le motivazioni di esclusione dal finanziamento. Gli fa eco il sindaco di Satriano, che attribuisce l'esclusione a una scelta orientata da una scorretta interpretazione delle norme generali da parte della stessa Commissione. Dopo aver chiesto spiegazioni agli uffici e consultato la richiamata norma che altro non è che il codice degli appalti pubblici, prendo coscienza, ci dice invece il primo cittadino di Melfi, che l'eccezione mossa dall'ufficio della regione è illegittima. È illegittima l'esclusione perché il progetto presentato dal Comune è riferito al primo livello, cioè si tratta di uno studio di fattibilità, non di un progetto definitivo o esecutivo. Intanto, Piero Lacorazza ha chiesto l'audizione in commissione dell'assessore regionale Cifarelli per un esame dettagliato della situazione e per concordare un percorso che non penalizzi i comuni esclusi. La cronaca ha controllato all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio. Poco prima di cominciare il suo turno di servizio, come mediatore culturale, un cittadino siriano di 33 anni è stato arrestato dalla polizia perché trovato in possesso di sei dosi di hashish che aveva nascosto all'interno delle proprie scarpe già confezionate e pronte per lo spaccio. Secondo gli investigatori, la droga era destinata a qualcuno degli ospiti del centro. Le agenti che nella casa dell'uomo hanno poi trovato altra sostanza stupefacente hanno inoltre denunciato in concorso con il mediatore culturale un giovane di 25 anni trovato in possesso di un grammo di hashish e di un coltello utilizzato per il taglio della droga. Buone notizie per i lavoratori dell'indotto dell'Eni ai quali sarà corrisposto a giorni un bonus di 1000 euro secondo l'accordo sottoscritto tra regione e compagnie petrolifere nel 2014. Si tratta dell'annualità del 2015 che giunge dopo una lunga trattativa con i sindacati e i sindaci della Val d'Agri ieri presenti al tavolo della trasparenza convocato in regione. Celestino Benedetto. Sarà corrisposta a giorni l'erogazione dei 1000 euro integrativi ai lavoratori dell'indotto Eni, frutto dell'accordo sottoscritto tra regione Basilicata e compagnie petrolifere nel novembre 2014. Stiamo parlando dell'annualità del 2015 che sarà erogata essendo già stata perfezionata la determina regionale che prende atto della rendicontazione effettuata dall'osservatorio paritetico territoriale per un importo complessivo di 755.000 euro. Il saldo dell'annualità 2016 legato alla rendicontazione che le aziende dovranno far pervenire quanto prima all'osservatorio dovrebbe avvenire entro il 14 settembre. Un passo in avanti dunque nella trattativa condotta con i sindacati del settore e con i sindaci che hanno preso parte in regione al tavolo della trasparenza sul centro Oli di Vigiano. Preseduta dagli assessori alle politiche di sviluppo e all'ambiente e territorio Roberto Cifarelli e Francesco Pietrantuono, la riunione ha visto la presenza dei sindaci della Val d'Agri, oltre che delle delegazioni di Eni, CGL, Cisle e Will, Confindustria e Pensiamo Basilicata. Calendarizzati i prossimi appuntamenti a cominciare dal 4 settembre, quando si avvierà un tavolo tecnico tra organizzazioni sindacali e imprese per affrontare le problematiche poste all'attenzione dei gruppi tecnici, mentre il 25 settembre è in programma un tavolo con Eni per aprire un confronto ampio sul futuro della multinazionale in Basilicata. Ciò anche sulla scorta delle richieste avanzate dai sindaci e dalle organizzazioni sindacali, riprese dagli assessori Cifarelli e Pietrantuono, che hanno posto la necessità che Eni non si limiti solo alle attività estrattive, ma che coniughi le questioni legate alla sicurezza, alla tutela della salute e dell'ambiente. L'incontro del 25 settembre sarà preceduto da tre riunioni con la Regione. Ed è in corso a potenza il Consiglio territoriale della Willm Basilicata con al centro la presentazione del rapporto sul primo semestre 2018. Nel suo intervento introduttivo il segretario regionale Marco Lomio ha acceso i riflettori sulla situazione industriale e regionale a partire da FCA e indotto Eni. Mancavi il ricordo all'ex CEO di FCA Sergio Marchionne, ma lo sguardo ora è rivolto al futuro, confidando che il nuovo AD Mike Manley riconfermi il piano industriale presentato il primo giugno da Marchionne, con in primo piano lo sviluppo di nuovi motori ibridi, ma soprattutto per lo stabilimento Lucano la sostituzione della linea della Punto con una nuova Jeep, sostituzione di Celomio, che permetterà la saturazione dell'impianto e la tenuta occupazionale, affrontata anche l'avvertenza Ferro Sud, rispetto alla quale il segretario ha ricordato la richiesta di convocare un tavolo al mese avanzata al vicepremier Di Maio durante la scorsa visita a Matera, sotto la lente della Wilm la questione petrolio, relativa al contratto unico che ha detto Lomio deve avere lo scopo di tutelare la dignità del lavoratore. Toccate anche le vertenze delle aziende potentine Argaip e De Vivo, unico obiettivo della Wilm Basilicata, dice Lomio, è quello di tenerci stretti, più posti di lavoro possibili, dal punto di vista organizzativo, inoltre il sindacato nel consuntivare i primi sette mesi dell'anno si conferma la prima organizzazione sindacale del territorio regionale e tra i prossimi appuntamenti dopo l'estate ci sarà l'inaugurazione della nuova sede a Melfi per essere sempre più vicini al lavoro e ai lavoratori. Ancora una storia di violenza domestica che ci porta a Policoro, dove i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di nazionalità albanese che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza privata. A seguito di una segnalazione giunta al 112, i militari sono intervenuti nell'abitazione dell'arrestato dove era in corso un'accesa lite scaturita. Per futili motivi l'uomo aveva picchiato la moglie minacciandola di morte ed aveva tentato di colpirla con due coltelli da cucina a difendere la donna e ad assistere all'aggressione anche i figli minori che hanno assistito all'aggressione e provvidenziare l'intervento dei militari che hanno soccorso la 36enne. Dopo le cure la donna è stata accompagnata in caserma dove ha raccontato di aver subito nel tempo diversi episodi di maltrattamenti con aggressioni fisiche e verbali con minacce ed offese, un escalation di violenza che avrebbe potuto portare ad un drammatico epilogo. Il 46enne si trova ora nel carcere di Matera. E ora la linea va alla regia per una breve pausa pubblicitaria. Nuova Impianti a Potenza progetta e realizza qualsiasi tipo di impianto per la vostra abitazione o per locali privati e pubblici scegliendo tra le migliori soluzioni sul mercato in termini di qualità e affidabilità. Nuova Impianti di Aldo Capitini 26 a Potenza per informazioni il sito scegliete subito l'impianto che vi farà risparmiare energia. Complezzo Saloni da Barba e Matrimoni il nuovo lavoro di Graziano Accinni in abbinamento facoltativo con La Nuova del Sud Dalla Mazzurca alla Polca dalla Quadriglia alla Tarantella un'opera sulla grande tradizione musicale lucana Ritmi Immortali da ascoltare ovunque complesso Saloni da Barba e Matrimoni il nuovo lavoro di Graziano Accinni in abbinamento facoltativo con La Nuova del Sud Eccoci rientrati in studio riprendiamo il nostro Tg con la cronaca cittadina sono 17 le famiglie fatte evacuare dalla palazzina in via Maratea a Potenza la cui stabilità è stata compromessa a seguito del crollo di un muro di contenimento in un cantiere edile sottostante l'edificio l'ordinanza di sgombero è stata firmata dal sindaco Dario De Luca che in risposta ai disagi patiti dagli inquilini del condominio 43 persone in tutto al momento ospitate presso una struttura alberghiera ha assicurato sostegno economico sarà infatti la società titolare del cantiere a farsi carico delle spese sostenute dai residenti evacuati al piano terra della palazzina si trova anche un asilo nido privato da qui la richiesta della titolare di procedere quanto prima le verifiche e alla messa in sicurezza dell'edificio ieri sul posto oltre ai vigili urbani anche i carabinieri i vigili del fuoco i tecnici comunali e il PM della Procura della Repubblica di Potenza Veronica Calcagno che sta coordinando le indagini il cantiere è stato posto sotto sequestro la statale 658 Potenza Melfi resta sotto riflettori per la sua pericolosità gli amministratori dei comuni di Potenza Melfi Barile e Figliano insieme con la Polizia Stradale e l'ANAS si sono riuniti per un esame aggiornato delle condizioni di sicurezza dell'arteria nel corso della riunione si è preso atto che anche negli ultimi mesi è rimasto costante il tasso di incidenti gravi ma che tuttavia la principale causa è connessa al superamento dei limiti di velocità e alle imprudenti manovre di sorpasso nei tratti stradali interessati dall'elevata presenza di Pullman ANAS ha assicurato un'accelerazione dell'iter degli interventi di miglioramento della statale ma si procederà anche all'installazione a breve da parte della Polizia Stradale di due nuovi autovelox gestiti dal comune di Potenza e dalla Polizia nel tratto iniziale in direzione Potenza che risulta particolarmente pericoloso e dove si sono registrati la gran parte degli incidenti mortali saranno inoltre collocati dall'ANAS sette box metallici di colore arancione e blindati lungo un tratto stradale di 49 km utilizzati come dispositivo mobile di velocità la Prefettura continuerà a seguire con particolare attenzione gli interventi strutturali in itinere e l'impatto che le misure che saranno a breve avviate avranno sulle condizioni di sicurezza della circolazione e per lavori di ammodernamento la strada provinciale 32 verrà chiusa al traffico a partire dalla fine del mese di agosto e fino ad aprile inoltrato l'interruzione interesserà il tratto che si snoda dalla Basentana al Bivio di Albano all'incrocio della statale 92 fino al quadrivio Laurenzana Calvello anzi Potenza preoccupazione è stata espressa dai sindaci della Valle del Camastra che parlano di decisione grave che isolerà ulteriormente una zona dell'entroterra Potentino la già disastrata economia che gira attorno a queste piccole realtà produttive allocate nelle zone artigianali di questi paesi verrà definitivamente compromessa rilevano gli amministratori che si sono rivolti al prefetto annunciando l'avvio di una petizione inclusione sociale accordi di programma per 118 interventi con un investimento di circa 21 milioni ieri la firma in regione sentiamo sottoscritti nella sala in guscio della regione Basilicata gli accordi di programma per l'attuazione delle operazioni in materia di promozione della inclusione sociale e potenziamento del sistema dei servizi socio-assistenziali socio-sanitari e socio-educativi gli accordi prevedono 118 interventi di realizzazione di nuove strutture o adeguamento di quelle esistenti per un investimento complessivo di 20,7 milioni di euro a valere su due linee di azioni del Pio Fesra Basilicata 2014-2020 per il vicepresidente dell'aggiunta e assessore alle politiche per la persona Flavia Franconi la sottoscrizione degli stessi migliora l'offerta dei servizi per l'infanzia, i minori, gli anziani e i disabili sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi I 118 interventi serviranno complessivamente ha spiegato ancora altri 4.566 cittadini portando ad oltre 10.000 gli utenti potenzialmente serviti nella nostra regione I 118 nuovi interventi sono così articolati 28 nuovi servizi residenziali 78 diurni e semi residenziali 12 per la prima infanzia casilinido e sezioni primavera con riguardo al target di utenza si avranno invece 49 nuove operazioni dell'area anziani 14 nell'area disabili 43 nell'area minori e 12 nell'area prima infanzia gli accordi ha aggiunto Antonio Bernardo autorità di gestione dei programmi operativi Fesra chiudono la procedura negoziata per la selezione degli interventi avviatasi a settembre scorso tra la regione Basilicata e i comuni dei sette ambiti socio-territoriali il punto di forza è stato sicuramente il censimento delle 297 strutture esistenti in modo da programmare adeguatamente il potenziamento dell'offerta nella pagina sportiva in primo piano c'è il calcio con il campionato di serie C Matera nel caos Columella congede il gruppo LPS ritorna nel pieno possesso del club Biancazzurro l'imprenditore Altamurano prova a coinvolgere una cordata pugliese ma intanto il tempo stringe Enesimo colpo di scena in casa Matera Saverio Columella non lascia ma rilancia il progetto Biancazzurro o meglio è costretto a rilanciare l'imprenditore Altamurano infatti ha dato il ben servito al gruppo Lamberti e ha aperto la porta ad una nuova accordata pugliese anche la formula sarebbe differente non una cessione totale delle quote ma un fitto del ramo di azienda per due anni il colpo di scena si è consumato nella giornata di ieri quando è saltato in maniera definitiva l'accordo tra il presidente Saverio Columella e il gruppo LPS per il passaggio del 100% delle quote societari dopo l'accordo e la firma del contratto preliminare sottoscritto poco meno di due settimane fa ma su una possibile nuova accordata già pronta l'avvocato Ripoli smentisce non so nulla che qualcosa fosse andato storto lo si era capito già nella giornata di venerdì quando le parti si sono incontrate per cercare di chiudere la trattativa ma non c'è stata la fumata bianca il gruppo avellinese guidato da Lamberti ha preteso un po' di tempo per siglare l'accordo definitivo perché spaventato forse dalle notizie circa la situazione debitoria non del tutto sanata come denunciato dall'asso calciatori qualche giorno dopo l'accordo preliminare situazione debitoria che ha portato il Racing Aprile a ricorrere al Tribunale Nazionale Federale e farebbe rischiare alla Matera anche il declassamento in una categoria inferiore una eventualità che lo stesso gruppo Lamberti avrebbe voluto evitare in quanto sarebbe stato disposto a rilevare il titolo del Matera solamente in Serie C oltre a visionare le carte Lamberti ha chiesto a Columella di aspettare almeno fino al 2 agosto giorno della sentenza del TFN un atteggiamento che ha indispettito quest'ultimo che ha preferito guardare altrove visto che al Matera erano interessate almeno un altro paio di cordate ora c'era da recuperare il tempo perduto e domenica ci sarà il derby di Coppa Italia contro il Potenza che il Matera potrebbe anche non giocare bene è stato appena anticipato in Coppa Italia di Serie C l'urna pesca subito il derby tra Matera e Potenza intanto nel capoluogo si è aperta la campagna abbonamenti non senza qualche intoppo Manuel Scalese dopo due settimane di lavoro si è concluso il ritiro del Potenza calcio che si appresterà ad affrontare il prossimo campionato di Serie C Franza e compagni si ritroveranno nel pomeriggio al Viviani per riprendere gli allenamenti con il Potenza atteso giovedì al Curcio per il primo memoria al Tonio Catalano contro il Picerno dell'ex Giacomarro test che fungerà da succoso antipasto prima di quello che dovrebbe essere l'esordio nella Coppa Italia di Serie C previsto contro il Matera in questo caso il condizionale è d'obbligo visto che il Potenza è stato inserito nel girone L con Bisceglie Matera sorteggio prevedibile vista l'impossibilità da parte del Potenza di utilizzare il Viviani e le nubi che alleggiano intorno al Bisceglie fermo con le quattro frecce e con il presidente canonico che vorrebbe dirottare il titolo a Bari se l'eventualità di assistere ad un Matera Potenza il 21 settembre all'esordio in Coppa Italia poteva essere preventivabile non lo era affatto quella che Biancazzurri si presentassero a meno di una settimana dalla prima gara ufficiale senza una società un tecnico del Bue è legato a doppio filo alla sentenza del Tribunale federale nazionale dopo il ricorso del Racing Aprilia attesa il prossimo giovedì 2 agosto ma anche nel caso di un mantenimento della categoria non è da escludere l'eventualità che il Matera possa rinunciare alla Coppa al momento nonostante i crismi dell'ufficialità offerti dal calendario il derby resta dunque congelato dalla giornata di ieri intanto si è aperta ufficialmente la campagna abbonamenti del Potenza in vista della prossima stagione questi giorni saranno dedicate alla prelazione per i vecchi abbonati che per rinnovare il loro legame con il Leone Rampante dovranno consegnare un documento di identità e il precedente abbonamento a giovedì invece la vendita sarà libera a tutti le cose però non sono iniziate con il verso giusto visto che nella mattinata di ieri molti tifosi si sono recati nei punti venditatorizzati per entrare in possesso dell'abbonamento ma per problemi di linea i fan rosso-blu sono dovuti tornare a casa senza il proprio passepartout stagionale problemi tecnici sì ma ci piace pensare che il tilt sia stato dovuto ad un eccesso di entusiasmo La pagina degli spettacoli ieri sera a Campomaggiore in scena a Rosalia Porcaro con lo spettacolo Donne sul palco personaggi al femminile pronti a trovare nella disperazione la forza di reagire e di reinventarsi e questa sera si replica a Irsina sentiamo Lucia Pietrafesa ma loro verrà di emanata e quando mi dice un'altra ecco perché eri così sicuro di te di lasciarmi eh è lei che ti dà la forza quanti anni ha come si chiama è bionda bruna rossa pavonazza con me bionda occhi azzurri un metro e ottanta quarta di reggiseno che schifo e a rolle truata stucesse Rosalia Porcaro con il suo spettacolo Donne regala al pubblico una galleria di personaggi tutti al femminile donne dalle mille speranze accanto a quelle dei sogni infranti rappresentative di una Napoli pronte a trovare nella disperazione la forza di reagire e inventarsi la vita Omast è il mio donatore di lavoro lui è bravissimo perché non è come gli altri lui ci dà pure la tredicesima la quattordicesima sono gli altri dodici stipendi che hanno un giro a progetto sul palco la storia di Veronica operaia che lavora in una fabbrica di borse nel napoletano pagata in nero alle prese con i preparativi per il suo matrimonio c'è poi Natascia la cantante neomelodica la signora Carmela delusa dei politici il bambino Gigino rassegnato a giocare tra i cassonetti e persino una signora sfuggita ai missili americani tutte vivono con assoluto ottimismo la precarietà della loro vita da trasformare così la tragicità del loro mondo in un divertente paradosso mio marito è disoccupato da 20 anni non è nemmeno operare è aspirante operare ha flessibilità che ha proprio rindo sangue una volta è flessibile in coppia in coppia una volta in coppia in poltrona una volta in coppia sta sempre a casa lo spettacolo fa parte del cartellone estivo promosso dai teatri uniti di Basilicata una programmazione che punta a coinvolgere un pubblico trasversale per età e gusti bene si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale vi rimando alla prossima alle ore 19 ma non andate via perché ora andremo a vedere come trascorrere questa serata con la nostra agenda degli appuntamenti da parte mia è tutto grazie per l'ascolto ad acerenza le 20 nel centro storico cartoni nel borgo a Matera le 21 nel cortile dell'ex ospedale San Rocco concerto meraviglioso mimmo a cura dell'orchestra sinfonica metropolitana di Bari diretta da Francesco Zingariello a Matera Iazzo Gattini a partire dalle 21 torna il Parco Murgia Film a Montescaglioso alle 21 al Chiostro dell'Abbazia concerto finale masterclass con Toffanelli Lucchi e Bosso a Marconia di Pistici alle 21 e 30 all'anfiteatro del Tilt spettacolo Doc donne di origine controllata con Francesca Reggiani a Maratea alle 21 e 30 in piazza Sisigni Tarantanova in concerto e ancora a Matera Bolero Suare di Michele Merola a Palazzo Lanfranchi a partire dalle 21 e 30 ben trovati da Nikos di Trebi Meteo osserviamo insieme la tendenza per i prossimi giorni sarà una settimana bollente sull'Italia perché l'anticiclone africano estenderà i suoi effetti a tutto il Mediterraneo con una massa d'aria molto calda dal Nord Africa in viaggio verso le nostre regioni anche con parecchia umidità soprattutto in pianura padana quindi disagi anche di notte per chi ovviamente abita nei grandi centri urbani andiamo a vedere la nuvolosità ci conferma martedì una giornata con cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi ideale per i vacanzieri del mare cosa succede quindi dal punto di vista meteo bel tempo sole qualche isolato temporale di calore solo sull'area alpina e dorsale appenninica ma cose di poco conto guardate le temperature qui sul pannello massime anche fino a 37 gradi su alcune zone della Valpadana e Toscana rimanete come sempre aggiornati sull'app di Trebi Meteo nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni in montagna nubi irregolari con deboli temporali previsioni per domani al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna bel tempo con cieli sereni nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna bel tempo con cieli quasi sereni Grazie per la visione!